Musica E amori miei, 49esima parte di Watch Dogs 1 Siamo qua con noi da Chicago perché abbiamo la misogna finale dei codici QR Mancano anche quelli Manca un botto di roba Ed è il momento giusto per andarlo a fare Dopo che abbiamo anche nato questa signorina che ci dà 2.220 Dollarini per le nostre tasche allora Avvia indagine Addio, madoo Che cazzo ci arrivo Sempre da qua si passa Ok Buono Poi Questo di qua si fa così Ok E adesso manca quello che si trova qui Sbloccato l'abbiamo sbloccato ma manca ancora un po' Manca Questo Questo Ripeto sempre che a volte fare il contrario è una soluzione Di qua Dobbiamo fare in modo che arrivi Così Così forse No Eh ce la stanno mettendo Si stanno mettendo l'impegno per farci la difficile Ok Ne manca uno solo O non gli arriva corrente Adesso non gli arriva da su Adesso non gli arriva da un lato Ma se la facesse arriva da qua invece Mi manca di qua E si può risolvere così Yes Che a far serio Deagles Non poteva batterti Deagles Ma volevamo scoprire per quanto le sue difese ti avrebbero tenuto fuori Ha resistito più di previsto Ma tu continui a stupirci Ti siamo grati per l'aiuto E ti ricompenseremo adeguatamente Voglio i soldi Anche se C'ho tipo quasi un milione Anche il trollato 1000 XP Dovresti darmi almeno un punticino abilità Meno merito 17 17 codici QR Ma in realtà A parte i progressi Ci abbiamo nulla Che brutto però Bruttissimo Pessimo proprio Va bene Andiamo avanti